direi a questo punto di iniziare e poi se c'è qualcun altro che si aggiunge lo facciamo tranquillamente entrare. Allora io vi saluto tutti quanti, è un piacere anche ritrovarvi per questo secondo incontro. Oggi abbiamo un incontro in cui si parlerà di lavoro di rete e dell'importanza che lavorerete dopo nella lotta alla tratta e a parlarci di questo tema così importante c'è Monica Chias della comunità di Sant'Egidio che è esperta in queste tematiche e che ci guiderà in questo secondo incontro di formazione di questo percorso. Per cui Monica quando vuoi hai la parola. Grazie Giulia. Buonasera a tutti. Siamo felici di ritrovarci ancora per questa seconda edizione del corso. Vuol dire che la rete si sta già costruendo e che sta dando i suoi frutti. Quindi questa sera il titolo della mia presentazione è appunto l'importanza della rete perché nel servizio alle vittime di tratta non si può prescindere dal lavorare insieme da soli non ce la si fa insieme si può cambiare la vita di tante persone perché il lavoro sulla strada il lavoro con le vittime di tratta non è un lavoro. Gentilmente potreste spegnere l'audio quando entrate? Ringrazio. Allora vorrei appunto condividere con voi alcune riflessioni sull'importanza di creare una rete. Quando incontriamo le persone che sono vittime di di tratta di grave sfruttamento a qualsiasi titolo le incontriamo sappiamo che dobbiamo farci strada in un mondo chiuso che è il mondo della solitudine della persona. La solitudine che può essere dettata dal fatto che ormai la persona è sfiduciata non crede più di poter cambiare la la propria vita o che la persona è prigioniera dei rapporti con i connazionali che attende che sono diciamo che costruiscono come un po' una gabbia intorno alla persona che per evitare che questa persona abbia rapporti e abbia il modo di pensare un'alternativa per la propria vita quindi la io ribadisco innanzitutto l'importanza del rapporto personale il servizio alle vittime della tratta non si può fare a tavolino non si può fare nella teoria non si può fare con gli sportelli a cui le persone si presentano anche ma si può fare soprattutto costruendo un'amicizia una relazione per entrare in questa gabbia per farsi strada in questa gabbia ma dalla gabbia nella gabbia si può entrare in attraverso diversi e dopo vedremo un po' quali sono queste porte che eh che noi possiamo aiutare ad aprire mh vorrei darvi anche un attimo una panoramica di ciò che esiste un po' a livello nazionale e regionale per essere coscienti del fatto che anche il nostro lavoro è inserito dentro un lavoro più grande questa è un po' la mappa di tutto ciò che esiste a livello nazionale cioè di tutti gli enti e i progetti che fanno parte del piano nazionale antitratta e non penso tutti voi sappiate che eh c'è un piano nazionale antitratta che è una specie di documento attuativo delle delle politiche nei confronti delle vittime della tratta che dipende dalla presidenza del consiglio dei ministri e in particolare dal dipartimento per le pari opportunità sotto la ministra Bonetti in questi giorni proprio si sta discutendo l'approvazione del prossimo piano antitratta perché purtroppo quello precedente anche a causa del covid ormai è scaduto così come sono scaduti molti dei progetti che eh sopravvivevano grazie alle alle sovvenzioni del piano nazionale antitratta come vedete dalla cartina sono eh molte delle regioni che mh coordinano queste questi progetti sono eh diciamo guidate da cooperative nel Lazio invece la situazione è differente perché nel Lazio è la regione proprio l'organo amministrativo regionale che coordina la rete antitratta vediamo adesso un attimo che non mi allora invece nella rete antitratta del Lazio eh vediamo che fanno parte de della rete gli enti e le associazioni che si sono iscritte all'albo degli enti autorizzati a operare nel campo della tratta e c'è un albo per le associazioni che si occupano di migrazione in generale e c'è un albo delle associazioni accreditate in particolare nel settore della tratta quindi per essere parte ufficiale della rete antitratta bisogna prima fare questo passo di accreditamento diciamo e ne fanno parte il comune di Roma alcune cooperative che lavorano da tantissimi anni nel campo della tratta come Bifri, Magliana Ottanta e non le nomino tutte, la Caritas e la comunità di Sant'Egidio anche se a titolo non oneroso nel senso che non usufruisce dei dei fondi. E gli enti accreditati alla realizzazione del programma ecco dipendono dal Ministero delle Politiche Sociali. Le azioni del piano sono quelle che riguardano il contatto quindi il discorso delle unità di strada e sportelli, l'azione di protezione immediata quindi l'accoglienza, l'assistenza eccetera, la consulenza legale, l'accoglienza presidenziale e poi vedremo come questo oggi rappresenta uno degli scogli maggiori diciamo del sistema della rete antitratta e poi tutti gli interventi mirati all'ottenimento del permesso di soggiorno che poi vedremo più nel dettaglio. La formazione e l'istruzione con forti restrizioni purtroppo e l'inclusione attiva quindi il passo finale la l'inclusione nel mondo del lavoro diciamo. E adesso passiamo un po' alla alla rete come la concepiamo noi diciamo nel nostro lavoro quotidiano. Cos'è per noi la rete? La rete è il diciamo il legame che esiste tra le persone, le parrocchie, le associazioni, le congregazioni religiose per cui quando io ho un problema so chi posso chiamare. Questa è la rete, è la rete che funziona al di là della rete istituzionale che è bene che ci sia ed è giusto che ci sia nella vita quotidiana noi abbiamo il problema dell'affrontare le novità, le sfide nell'incontro con le persone vittime di ritratta e di riuscire a risolvere concretamente i loro problemi. Ho fatto un piccolo schema che rappresenta un po' tutte le dimensioni del bisogno di una persona vittima di tratta ma che sono anche le porte attraverso cui noi possiamo entrare in quella gabbia di cui parlavo prima. Il primo scoglio è l'emersione. L'emersione che diciamo vuol dire il desiderio di una persona di essere presa in carico quindi il desiderio di dare una svolta alla propria vita, di rivelare a qualcuno il problema che si ha e questo si può fare in tanti modi che poi vedremo spiegando qual è la rete che può facilitare l'emersione. La seconda dimensione è la regolarizzazione, il supporto legale. Penso che ognuno di noi nel rapporto con le persone vittime della tratta è capitato di sentirsi dire ma la mia vita cambierà quando io avrò i documenti cosa vera e anche non vera perché si può anche diciamo cominciare un percorso anche senza documenti però sicuramente l'ottenimento del documento è un momento molto importante nel vita di una persona vittima di tratta poi c'è l'accoglienza alloggiativa cioè dove andare a parare quando una persona ci chiede aiuto dove possiamo andarla ad accogliere e qui direi che la rete è veramente fondamentale. L'istruzione e la formazione sono un'altra porta attraverso cui noi possiamo cominciare a stabilire una relazione con le persone anche quando non vogliono immediatamente emanciparsi da una situazione di schiavitù, di coercizione. Il sostegno all'alimentare che è stato molto importante durante il periodo del covid per esempio che ha rappresentato proprio una porta per andare a trovare queste persone che erano un po' scomparse dalla dalla strada e abbiamo poi la eh scusate che non vedo le mie proprie slide voi vedete bene? No guardi c'è una slide fissa dall'inizio in cui si parla di corsi professionali ma tutto quello che lei ha detto non è apparso nessuna slide mi dispiace io sono in condivisione dello schermo ora esco e rientro adesso vedete una cartina adesso c'è la cartina sì grazie eccoci allora eravamo su questa slide dei bisogni l'altra porta attraverso la quale possiamo entrare è il discorso del bisogno di lavoro e ne parleremo poi più diffusamente la salute e il sostegno psicologico che forse è anche una delle porte più facili da aprire perché sia quando andiamo sulla strada sia quando andiamo a trovare le persone in carcere sia quando le incontriamo personalmente nei centri di ascolto spesso uno dei bisogni anche più facili da da confessare da da condividere è quello del medico, del ginecologo del qualsiasi medico si abbia bisogno il sostegno alla genitorialità perché poi spesso le persone che incontriamo sono mamme non tanto papà ma sicuramente molte sono mamme e poi in ultimo ma forse uno dei più importanti è diciamo la riappropriazione dei propri diritti come cittadini e quindi tutto il discorso della documentazione che poi serve ad accedere alla dimensione dell'essere cittadino e il poter godere tutti i benefici di cui gli altri godono e adesso cominciamo a parlare un po' proprio delle reti che si costruiscono attorno a ciascuna di queste dimensioni la prima naturalmente quella dell'emersione senza la quale non non si può fare molto è quella appunto del numero verde antitratta che penso tutti noi conosciamo certo il numero verde antitratta è un primo punto di incontro è una prima scrematura è molto difficile che una persona vittima di tratta prenda l'iniziativa da sola di telefonare al numero antitratta però succede sicuramente si possono segnalare delle persone alla rete al numero verde antitratta è una prima scrematura perché è chiaro che non c'è un rapporto diretto per cui immediatamente si risponde alla domanda di aiuto ma è un punto di accesso attraverso il quale si viene indirizzati a vari servizi un secondo punto molto importante è quello della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale spesso le vittime della tratta sono anche richiedenti asilo per fortuna direi perché sicuramente il momento in cui si va a parlare della propria condizione alla commissione per poter ottenere il permesso di soggiorno è un momento privilegiato per scoprire se una persona è o no vittima di tratta anche quando questa persona non racconta la propria storia in maniera trasparente per paura per mille motivi ma la commissione capisce da alcuni indicatori da alcune risposte fisse che le persone danno se dietro a quella realtà si nasconde una situazione di coercizione e la commissione per la protezione internazionale è diciamo l'organismo che poi ti consente di regolarizzare la tua posizione sul territorio italiano e tanti anni fa non era spuntato che una vittima di tratta potesse accedere alla protezione internazionale quando andava bene si dava il permesso per motivi umanitari mentre invece oggi quantomeno con la commissione territoriale di Roma si sono fatti dei grandissimi passi avanti ormai l'essere vittime di tratta di sfruttamento lavorativo o di matrimonio forzato è quasi nella totalità dei casi un motivo per rilasciare un permesso per protezione internazionale di cinque anni rinnovabile è la famosa svolta nella vita diciamo ecco e noi quando incontriamo delle persone che devono affrontare la commissione territoriale e ci chiedono aiuto o ci dicono che devono andare a fare l'intervista veramente è un momento privilegiato in cui possiamo dare dei contigli e possiamo mettere in atto la rete perché? Perché innanzitutto la commissione territoriale riceve delle segnalazioni dalle associazioni dalla Caritas, da Sant'Egidio, dalla comunità Papa Giovanni, dalle parrocchie da chiunque sia impegnato in prima linea con le persone vittime di tratta una relazione di un'associazione può essere un fattore che incide molto positivamente poi sulla decisione della commissione il fatto di sapere che questa persona è seguita, ha già intrapreso un pezzetto di percorso così come sono importanti i certificati di vulnerabilità o di fragilità psicologica rilasciati da alcuni ospedali o associazioni che si occupano di questo sono importanti anche i certificati per esempio che rilasciano diciamo dichiarazioni sulle mutilazioni genitali che tante volte le donne hanno subito quindi nel momento della preparazione della commissione è molto importante fare rete certificati di frequenza a scuola, frequentazione della parrocchia di qualsiasi ecco forma di contatto con associazioni e reti l'altro pezzetto della rete molto molto importante per ciascuno di noi soprattutto per chi va nella strada è il commissariato locale di polizia a cui è bene andarsi a presentare anche perché tante volte veramente ci sono dei poliziotti e delle poliziotte che si prendono molto a cuore la situazione delle ragazze che stanno sulla strada a volte me telefonavano dalla Nettunense dottoressa che devo fare con sta ragazza quindi avere un po' un rapporto con le forze dell'ordine è importante tante volte sono le forze dell'ordine che si rivolgono a noi per trovare un posto in urgenza perché purtroppo ecco dal punto di vista dell'accoglienza nonostante i numeri siano diminuiti degli sbarchi c'è ancora molta fatica a collocare le persone sospette vittime di tratta poi nella rete dell'emersione ci sono i centri di ascolto i centri di ascolto parrocchiali, i centri di distribuzione del cibo i centri di sportelli legali tutti questi centri sono delle orecchie che devono captare un po' i segnali che ci vengono dalle persone vittime di tratta anche quando non ce lo dicono esplicitamente per anni per esempio il centro di rimpatrio di Ponte Galeria o il carcere di Re Bibbia sono stati dei punti di accesso al mondo delle vittime della tratta perché molte delle persone che ci finiscono ci finiscono proprio perché sono vittime di tratta e poi chiaramente penso che il punto di contatto principe se vogliamo è l'unità di strada l'andare appunto nel luogo dove sono le persone ma di questo se ne parlerà più diffusamente nelle prossime lezioni diciamo del corso e poi l'ospedale l'ospedale perché a volte le ragazze vengono malmenate oppure si rivolgono all'ospedale per abortire a seguito diciamo di gravidanze non volute o violenze e per esempio alcune associazioni hanno anche dei punti proprio specifici per l'intercettazione delle vittime della tratta come per esempio il San Camillo a cui sicuramente ci si può rivolgere il discorso della regolarizzazione cioè il bisogno di documenti è veramente una cartina al tornasole tante volte della mentalità che c'è dietro io potrò fare qualcosa solo quando avrò i documenti cosa peraltro non vera perché anche con la richiesta di soggiorno si possono fare tante cose e si hanno alcuni diritti non molti ma alcuni per esempio dopo 60 giorni dal fotosegnalamento alla questura viene rilasciato un foglio nominativo un attestato nominativo che appunto in cui è scritto che dopo 60 giorni è possibile lavorare regolarmente quindi non c'è bisogno del permesso di soggiorno il cartellino di plastica per capirci per lavorare e comunque questo bisogno di documenti di dare un po' un senso compiuto all'essere venuti in Europa e aver cercato una strada è molto importante da perseguire da aiutare a perseguire perché tante ragazze soprattutto sono vivono in uno stato di continuo stress ma veramente di un grande stress per questa insicurezza di non sapere come andrà a finire dopo tutto quello che hanno sofferto come andrà a finire avrò i documenti non avrò i documenti quindi vediamo un po' come si compone la rete innanzitutto gli sportelli legali di associazioni e ogni associazione più o meno ne ha una vi segnalo comunque anche la clinica legale di Roma 3 che è molto attiva tutti i giovedì a ingresso libero si può andare per farsi aiutare in tutte le problematiche relative ai documenti e hanno anche una grande conoscenza del mondo delle vittime della tratta poi c'è appunto la questura non la questura in generale ma c'è un ufficio particolare nella questura che si occupa dei vulnerabili a volte non è che si può andare con una vittima di tratta in questura così senza avere un appuntamento prima di tutto perché è un po' pericoloso perché in questura nelle file si incontra di tutto si incontrano anche gli sfruttatori quindi è bene prendere un appuntamento e far fare un percorso facilitato ecco alle persone che vogliamo aiutare sia per accelerare gli appuntamenti sia per ecco poter spiegare bene alla segreteria che si occupa del rilascio dei permessi sia per asilo che per protezione speciale quelli per intenderci dell'articolo 18 ebbene ecco instaurare un rapporto con la polizia che lavora in quest'ufficio e poi c'è il rapporto come dicevo prima con la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale vi ho messo anche gli indirizzi in maniera che insomma da facilitare eventualmente il contatto allora chiedo scusa ma avremmo questa presentazione con tutte queste indicazioni che ci sta dando se se la ritenete utile sì certamente sì sì possiamo darla tranquillamente grazie abbiamo poi il discorso dell'accoglienza dicevo prima è un po' un punto dolente perché perché non ci sono molti posti disponibili soprattutto per le donne nel 2017 abbiamo assistito a un boom degli arrivi delle vittime di tratta via mare ma nonostante quello i centri di accoglienza che sono specializzati e che sono in grado di accogliere le persone che hanno questo particolare problema non sono tanti e non sono sempre idonei quindi è un mondo un pochino difficile e qui l'importanza della rete tra di noi la rete ecclesiale ma la rete delle associazioni è importantissima soprattutto quando abbiamo bisogno di agire in urgenza quando abbiamo incontrato una persona che ci dice non ce la faccio più vorrei andarmene e noi torniamo a casa col magone perché non sappiamo come farli uscire dove offrirgli un porto sicuro io ho suddiviso in due tronconi questa rete dell'accoglienza ce n'è una istituzionale per tutte le persone vittime di tratta e non che sono richiedenti asilo o che sono titolari già di protezione internazionale o sussidiaria la prima sono i centri di accoglienza straordinaria quando una persona arriva in teoria dopo poco viene mandata subito in un centro di accoglienza straordinaria a meno che gli sfruttatori non l'abbiano già individuata e fatta uscire per portarla da un'altra parte a questi CAS si accede o facendo domanda direttamente in questura oppure attraverso la profettura di competenza poi c'è l'accoglienza che si chiama di secondo livello cioè per chi ha già fatto la commissione per l'asilo e ha diritto a un'accoglienza di secondo livello e a questa si accede attraverso una domanda al servizio centrale quello che prima si chiamava SPRAR e adesso si chiama SAI e ci sono degli SPRAR molto buoni dei centri SAI molto buoni specifici per le persone con vittime di tratta o vulnerabili non ci sono molti posti a Roma perché purtroppo un po' la rete è stata smantellata e anche non ci sono tante associazioni come prima che si prendono l'onere di mettere in piedi questi centri SAI e anche perché i rimborsi vanno a rilento eccetera eccetera quindi entrare in un centro SAI può voler dire andare per esempio in Sicilia o in Reggio Calabria non è detto che si trovi nella regione dove uno sta e poi per gli altri percorsi che non sono quelli della richiesta asilo istituzionale ma per le persone che non hanno documenti o che hanno chiesto un permesso ai sensi dell'articolo 18 quello specifico per le vittime della tratta e c'è una rete informale e formale che si può percorrere io devo dire che la rete che funziona da sempre meglio è quella delle congregazioni religiose che sono pronte ad accogliere senza troppi se e senza troppi ma e senza avere uno status particolare dal punto di vista istituzionale che è la cosa che serve tanto spesso perché quando una ragazza ti dice voglio uscire non hai documenti non ha fatto ancora un colloquio con il centro antitratta del comune o della provincia bisogna agire d'urgenza quindi la rete delle congregazioni religiose la rete delle associazioni che hanno anche case al di fuori del sistema istituzionale Sant'Egidio, Caritas, Slaves No More, la Papa Giovanni, Centro Astalli, Fondazione Arche che magari hanno anche sempre un posto libero al di fuori del canale istituzionale adesso poi non voglio parlare per gli altri però ecco si può almeno tentare si può chiedere agli enti che fanno parte agli enti antitratta ufficiali della Regione Lazio la cosiddetta messa in rete per esempio l'associazione Bifri l'associazione Differenza Donna fanno parte di una piattaforma in cui possono mettere in rete la richiesta di alloggio di accoglienza per una persona e anche lì non è detto che sarà nella stessa Regione anzi spesso preferibilmente proprio per allontanare le persone in un momento di pericolo si preferisce mandarle in un'altra Regione e poi ci sono le case della cosiddetta semi-autonomia quando si è fatto già un percorso nella in una casa di prima accoglienza della rete antitratta si sono presi documenti si è fatto un percorso anche di formazione professionale e si entra nel mondo del lavoro come sappiamo è difficilissimo che queste persone si possano diciamo affittare un appartamento perché è molto difficile che qualcuno accetti di fare un contratto a uno straniero senza la busta paga eccetera eccetera ci sono delle case in semi-autonomia cioè è un'autonomia in cui si paga una cifra molto molto piccola e c'è comunque una supervisione da parte dell'ente ci sono le case delle scalabrignane, delle orsoline, delle francescane missionarie e adesso non cito perché sono veramente tante insomma un po' in tutta Italia c'è poi diciamo la porta dell'offrire la scuola io ci tengo molto a questo discorso perché andando con l'unità di strada della comunità di Sant'Egidio soprattutto nell'ultimo anno abbiamo visto questo grande desiderio di scuola anche quando uno continua a fare la visita di sempre e quindi la sera poi va purtroppo sulla strada lo studio, frequentare una scuola ti dà comunque una grandissima dignità la dignità di ritrovarsi in classe con gli altri di essere uno studente come tutti gli altri e di non dimettere il sogno che la propria vita un giorno potrà essere diversa e abbiamo visto che veramente questa è una porticina della gabbia che ha funzionato tantissimo per esempio molto con le vittime della tratta trans oggi nella scuola di lingua e cultura italiana della comunità di Sant'Egidio in ogni classe abbiamo dei trans e sono gli stessi che incontriamo poi nel nostro servizio sulla strada ed è bellissimo perché si costruiscono dei percorsi di speranza quindi qui veramente per fortuna a Roma c'è una grandissima scelta c'è la rete scuole migranti per cui molti anche molte associazioni aderiscono quindi si può trovare un corso praticamente in ogni quartiere ci sono poi percorsi più istituzionali che sono anche tesi all'ottenimento di un titolo di studio che magari non hanno mai potuto ottenere nel proprio paese sono percorsi facilitati cosiddetti CPA in cui ci sono le scuole serali c'è l'alfabetizzazione c'è la terza media e poi tutta la rete di scuole e delle parrocchie insomma io credo quasi ogni parrocchia ormai a una realtà di insegnamento della lingua italiana forse esagero però insomma io ne conosco veramente tante e poi ci sono i corsi professionali i corsi professionali per le persone vittime di tratta sono molto importanti ma devono essere di un certo tipo perché i corsi professionali diciamo erogati dagli enti di formazione più ufficiali spesso sono troppo difficili perché presuppongono una conoscenza della lingua e un grado di scolarizzazione che spesso le vittime di tratta non hanno e quindi bisogna inventarsi un po' dei corsi ad hoc per esempio che fanno uso anche della lingua delle persone in arabo, in inglese con l'aiuto dei mediatori culturali per dare il senso che si può cominciare un lavoro già a imparare un lavoro anche se non si hanno tutte le carte in regola anche se la propria conoscenza della lingua non è tale da frequentare un corso diciamo istituzionale e qui vi elenco un po' quelli principali che conosco a Roma ma sicuramente ognuno di noi ne può trovare degli altri e per questo che secondo me è importante che la rete la costruiamo insieme perché ognuno di noi conosce un pezzetto che gli altri non conoscono e mettere insieme questa condivisione di conoscenze è fondamentale per aiutare efficacemente le persone e poi c'è il discorso molto importante del lavoro il lavoro è importante non solo perché dà dignità soprattutto perché dà dignità perché costruisce un percorso di autonomia per cui si può prendere più coraggio ad emanciparsi ma è importante anche perché spesso le vittime della tratta devono mantenere la famiglia a casa spesso hanno bambini da mantenere nel proprio paese o hanno famiglie che prestano molto per diciamo in qualche maniera essere risarcite dell'investimento che hanno fatto inviando le ragazze e non solo in Europa a guadagnare a volte le mamme non lo sanno ma molto spesso lo sanno e qui il discorso della rete è veramente iniziale vi confesso che tutta questa rete nella ricerca del lavoro non esiste ancora è diciamo un po' lasciato ad ognuno di noi attraverso i propri contatti e diciamo le proprie conoscenze la possibilità di poter fare assumere queste persone io per esempio nell'ultimo anno ho avuto una buona esperienza con alcuni alberghi che hanno cominciato a fare degli stage o ad assumere con contratti mensili alcune ragazze vittime della tratta perché l'albergo è una buona possibilità perché a differenza del lavorare in famiglia è un rapporto un pochino più distaccato è un lavoro anche forse più ripetitivo però diciamo che consente diciamo un certo grado di ecco di autonomia ecco tante volte le ragazze quando vanno a fare o le badanti o lavorano in famiglia non si trovano tanto a proprio agio non sono abituate alla convivenza e quindi a volte si rischia di fare il patatrack diciamo a volte funziona ma non sempre i parrucchieri i ristoranti come cameriere come pulizie nei ristoranti come lavapiatti le sartorie e negli ultimi anni sono un po' fiorite queste sartorie solidali e poi lavoro presso le congregazioni religiose io ho sentito di tante ragazze che poi sono state magari prese anche per lavori o di pulizia o di portierato o di altro nelle congregazioni religiose o nelle scuole delle congregazioni religiose e poi io dico il negozio sotto casa perché poi alla fine i nostri rapporti personali con i negozianti con i parrucchieri sono quello che qualche volta è il punto di svolta per trovare lavoro a queste persone il discorso della sanità ecco a Roma offre moltissime strutture che possono aiutare il centro Samifo che è una collaborazione tra il centro Astagli e la ASL Roma A è un polo di aiuto per le vittime della tratta sia perché fa certificazioni delle torture delle mutilazioni genitali alla ginecologia al supporto alla maternità e il trattamento psicologico per esempio le sedute psicologiche lo stesso un pochino sullo stesso modello è l'INMP che sta a Trastevere in cui ci sono tutte le specialità mediche e c'è un punto di accesso antitratta con delle mediatrici che prende un po' in carico le persone in maniera olistica diciamo per quanto riguarda le persone trans c'è l'ospedale Spallanzani che appunto sia dal punto di vista dell'AIDS che della salute in senso globale devo dire conoscono una grandissima parte della comunità trans di Roma c'è ultimamente il dispensario Vaticano Santa Marta che è un punto molto carino diciamo di accoglienza alle persone migranti senza senza carta sanitaria ma magari o solo con l'STP che è il codice sanitario temporaneo per chi non ha i documenti o addirittura senza codice e si dedica in particolare all'assistenza mamma-bambino e anche lì è un ambiente molto accogliente in cui tra l'altro c'è anche un'assistenza concreta quindi prodotti per l'infanzia eccetera poi c'è dal punto di vista della vaccinazione lab vaccinali della comunità di Sant'Egidio dove adesso si può andare a farsi vaccinare anche senza bisogno dell'appuntamento ed è rivolto anche appunto a chi non ha i documenti in regola il Policlinico Gemelli ha un progetto Prisma che offre visite specialistiche anche qui alle persone che non hanno assistenza sanitaria ufficiale in ultimo vorrei parlare della dei diritti cioè dell'entrare nel circuito della delle persone dei cittadini in piena regola penso che forse uno scoglio che molti di noi hanno affrontato è quello della residenza ottenere la residenza perché dalla residenza poi discendono tutta una serie di diritti e di benefit anche economici purtroppo anni fa forse chi è chi c'è della Caritas Centro Astalli si ricorda che potevamo fare noi come associazioni la residenza virtuale c'erano degli indirizzi dell'associazione stessa a cui le persone che non avevano residenza potevano iscriversi attenzione sono anche persone che hanno permesso di soggiorno ma avere la residenza è molto difficile perché non si può dire dove si abita perché magari il proprietario della casa non vuole far sapere chi affitta la casa si abita da amici che non hanno l'abitabilità per far vivere tante persone dentro casa insomma ci si ritrova magari con permesso di soggiorno ma senza poter usufruire di tanti diritti che si hanno solo con la residenza quindi qui il primo diciamo nodo della rete è il segretariato sociale di ciascun municipio dove abitano le nostre amiche persone vittime di tratta si può richiedere una residenza per senza fissa dimora che a Roma è individuata all'indirizzo via modesta valenti quindi per fare questo bisogna avere una relazione dell'assistente sociale e poi andare allo sportello per poter richiedere l'iscrizione anagrafica perché l'iscrizione anagrafica è tanto importante perché senza questa non si può fare la carta d'identità senza la carta d'identità non si può avere una carta bancomat che oggi è un prerequisito fondamentale per poter lavorare perché non si danno più i soldi in mano per poter accedere a tutti i benefit che ci sono l'assegno unico per i figli tutti i benefit che ci sono stati per il covid l'assistente sociale l'iscrizione al nido dei bambini e l'iscrizione a garanzia giovani quindi per poter avere un percorso agevolato nel mondo del lavoro io vado a finire dicendo che dopo tutto questo discorso per noi ecco la rete migliore è quella che noi costruiamo lavorando insieme sul campo confrontandoci sulle esperienze che facciamo ponendoci insieme i problemi e trovando soluzioni insieme io credo che l'amore per le persone la relazione l'amicizia è quello che poi fa scaturire delle soluzioni fantasiose immaginative è quello il perno per trovare la soluzione come direbbe Don Milani I care non solo lui quando io ci tengo allora la soluzione la troverò e ogni realtà anche piccola anche la più piccola unità di strada col suo bagaglio di di conoscenze di esperienze sul campo può diventare uno snodo importante della rete è per questo è per questo che vorremmo lanciare con l'ufficio eh cari con l'ufficio della diocesi col coordinamento antitratta della diocesi una piccola inchiesta tra tutte le realtà che sono impegnate nella tratta o che vorrebbero impegnarsi una piccola inchiesta su quali reti utilizziamo eh nel nostro servizio è importante per capire come ci possiamo meglio aiutare gli uni gli altri quindi nei prossimi giorni dopo Pasqua riceverete un link con un piccolo questionario online eh che esamineremo e poi da cui trarremo delle delle lezioni e delle conclusioni grazie mille benissimo grazie Monica eh a questo punto allora vedo già una domanda che è in alcune domande ok in chat vi invito a fare domande o tramite la chat oppure direttamente parlando la prima che vedo è Maria Teresa che ci chiede chi risponde al numero un impiegato un impiegato del numero verde antitratta che ha a disposizione tutta una serie di indirizzi di informazioni iniziali direi ecco tendenzialmente chi risponde al numero verde antitratta e chiede poi appunto dove in che regione in che città risiede la persona che chiede aiuto e indirizza agli sportelli dei comuni o a diciamo all'ente gestore coordinatore del del servizio nella regione quindi come dicevo non è un aiuto immediato cioè mi trovano il posto dove dormire se sto scappando ma rimandano a un colloquio con un'associazione se avete altre domande prego mi tirate pure vedo adesso che mi mandavate i messaggi non scorrono le slide mi spiace io volevo sapere non so se mi si sente sì sì e non so se questo è diciamo la giornata giusta per fare questo tipo di domanda volevo sapere a fronte di tutto ciò sapendo che c'è un'organizzazione diciamo malevola dietro queste ragazze come come cioè che che tipo di rapporto poi si va a creare cioè in relazione a queste a questo tipo di organizzazioni perché questo non mi è chiaro però non ho capito se questa è la giornata diciamo giusta o magari ci sarà un altro incontro più ad hoc per questo tipo di domanda non so Giulia che dici scusate potreste rivedermi un momento alla domanda perché è andata chiamassimo la connessione allora mi sentite adesso perché lo sto facendo dal telefono non sono sicura di fare tutto giusto comunque mentre così ascoltavo mi chiedevo in ogni caso dietro queste diciamo questo problema della tratta le ragazze eccetera c'è comunque da quanto capiscono organizzazioni comunque malevole che immagino anche loro siano parte in causa nel processo di liberazione diciamo comunque mentale fisica psicologica eccetera quindi io non capisco però ripeto non so se questa è la giornata adatta per questo tipo di domande non capisco come si affronta questa parte del problema una prima risposta sicuramente la possiamo dare oggi poi certamente nelle prossime sessioni penso si andrà un pochino più nello specifico io direi che nel servizio alle persone vittime della tratta è bene non entrare in contatto con gli sfruttatori tant'è vero che molte delle case di accoglienza sono case a indirizzo segreto e quindi debbono essere assolutamente sconosciute alla rete degli sfruttatori anche nel servizio in strada non è che tutto si dice e tutto diciamo emerge perché siamo coscienti che ci sono delle persone che controllano per esempio per questo è importante il discorso che facevo sulle porte prima che aprono la galbia cioè bisogna entrare in relazione con la persona attraverso delle scuse se vogliamo delle altre porte la salute la scuola eccetera in modo da poterle vedere lontane dal loro ambiente la visita in strada è fondamentale perché ti devono vedere devono sapere che tu ci sei che se hai bisogno in qualche maniera mi puoi raggiungere ma non tutto si esaurisce là proprio perché non si può entrare in contatto con il mondo dello sfruttamento e solo la donna o la persona diciamo vittima di tratta può decidere di tagliare i ponti con la rete dello sfruttamento a volte scappando e quindi il nostro compito in qualche maniera è quello di facilitare la fuga ecco in qualche modo o scappando oppure affrontando lì dove si può affrontare la persona che ti sta sfruttando ecco qualcuna lo fa per esempio dice no io smetto di pagare il mio debito succede succede noi in questo periodo assistiamo con la guerra in Ucraina per esempio a un un pericoloso aumento del rischio ecco che che persone che scappano siano intercettate da da sfruttatori da da trafficanti quindi bisogna stare molto con con gli occhi aperti però non sono sicura di aver capito il senso della sua domanda era questo? Sì era questo cioè era sicuramente questo ecco grazie Claudia intervengo brevemente per dire che adesso ho capito bene la domanda dunque penso che nel sesto modulo nel quale parleremo di intercettazione e di accoglienza per cui quali strade si seguono per intercettare le vittime di tratta e come accoglierle un po' più nello specifico sicuramente la tua domanda troverà uno spazio più ampio quindi è una cosa che sicuramente riprenderemo nel corso del percorso di formazione ok grazie mille a posto grazie c'è una domanda in chat di Lia giusto che ci chiede come venite in contatto con queste persone sì tu intendi intendi le vittime di tratta intendi gli enti che collaborano no no le vittime con le vittime guarda allora la il contatto con queste persone è innanzitutto con le unità di strada quindi ci sono tante associazioni e parrocchie che settimanalmente vanno nei luoghi dove si sa che si esercita la prostituzione è forzata e anche perché è quasi sempre forzata per visitare le persone quindi si va poi anche di questo se ne parlerà più a lungo nei prossimi moduli questo direi che è il momento principale poi ci sono i momenti di cui parlavo prima per esempio tante volte nelle parrocchie nelle associazioni ci sono delle distribuzioni di cibo dei centri di ascolto e lì si può capire si può supporre che c'è un problema dietro e magari uno prova ad approfondire poi ci sono i canali istituzionali per esempio il commissariato viene una ragazza che scappa e il commissariato comincia ad allertare gli anti-antidratta per capire se chi può prendere in carico questa persona quello che dicevo prima la commissione per la protezione internazionale che individua le vittime di tratta e poi le diciamo le indirizza verso qualche associazione certo ho capito pensavo che addirittura si andasse per strada a pescarle ma non è così sì sì l'unità di strada fa questo ci sono dei rischi però sì ci sono dei rischi ma come dicevo prima non si mette a dire scappate dagli sfruttatori si fa amicizia si porta da mangiare da bere si chiacchiera si lancia un amo di direi ecco ok ho capito ok grazie prego vorrei fare una domanda buonasera 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 a tutti le unità di strada che siano composte da uomini o da donne crea una differenza cioè l'approccio può essere fatto da entrambi i sessi diciamo o sarebbe favorito dall'essere donne beh in genere la cosa migliore è che ci siano entrambi sia gli uomini che le donne gli uomini per un discorso anche di di sicurezza di immagine eccetera e le donne perché magari è più facile che l'approccio la confidenza avvenga con una donna ci sono anche le vittime di tratta uomini ultimamente abbiamo visto moltissimi ragazzi stranieri per esempio sulla strada e poi un'altra domanda grazie intanto non lo so per esperienza ma leggo gli annunci eccetera il fenomeno della prostituzione nelle case è in qualche modo affrontato e si riesce a incidere attraverso il lavoro dell'antitratta eh grazie della domanda perché questo è veramente uno degli scogli maggiori oggi perché con il covid la prostituzione indoor o nei centri estetici eccetera è cresciuta a dismisura in strada ci sono molte meno persone e lì è molto difficile incidere se non con i controlli di polizia perché non è che uno si può presentare in una casa e dire voglio vedere che succede qua è purtroppo un mondo chiuso da cui per le persone vittime di tratta è difficilissimo uscire perché si è letteralmente reclusi ecco quindi è difficile la risposta è che purtroppo ad oggi solo con le azioni di polizia è possibile ecco smascherare i centri eccetera certo c'è la responsabilità del cittadino che quando vede una cosa fa bene a segnalarla questo sicuramente ma è difficile che si possa andare oltre questo grazie ci tengo a menzionare un commento che ha lasciato Giulia Citelli che è una collega di Caritas Roma che aggiunge se lo vedete tutti quanti in chat potete andare a leggerlo che per l'assistenza sanitaria c'è anche il cuoreambulatorio Caritas di Marzara 97 aperto da lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 dal cesto diretto anche senza nessun tipo di documento è anche un laboratorio STPENI quindi anche per persone che non hanno un documento di riconoscimento e può rilasciare anche impegnative se necessario quindi lo segnalo se per caso non l'aveste letto non l'aveste visto e ringrazio moltissimo Giulia per il contributo mi scuso per non averlo menzionato mi è sfuggito ok se nessuno di voi ha altre domande aspetto qualche minuto qualche secondo se per caso qualcuno volesse chiedere qualcosa fare un'osservazione scusa prima si diceva della tratta anche di uomini ma per esempio quelli che puliscono con la scopa per le strade tolgono le foglie quello è un tipo di tratta così è se vi è capitato sì a volte sì non sempre però a volte sì per esempio c'è un tipo di tratta della comunità senegalese non so se avete visto le donne senegalesi con i bambini piccoli che chiedono l'elemosina o vendono quelle collanine per esempio quelle abbiamo capito che dietro ci sono delle organizzazioni delle confraternite senegalesi che le portano proprio a gruppi e solo per fare quello i ragazzi con diciamo che fanno le pulizie nelle strade più che altro hanno il problema di ripagare il debito del viaggio e quindi poveretti una volta usciti dai centri di accoglienza e magari non hanno avuto diciamo nessuna formazione nessuno sbocco lavorativo finiscono a fare questo nelle strade però ecco proprio chiamarlo tratta no è una forma di diciamo ecco di per ripagare il debito che hanno contratto per poter venire in Italia perfetto grazie e non so se posso intervenire un solo per ringraziare Monica per quanto ci ha spiegato e anche perché ho potuto lavorare in rete e con lei penso che il lavoro di rete sia fondamentale perché nessuno di noi può arrivare a risolvere problemi così grandi come quelli che incontriamo e io per esempio sono volontaria in carcere ho conosciuto delle persone che siamo riusciti ad aiutare solo grazie ad un lavoro in rete e per esempio Monica ci ha aiutato tantissimo per quanto riguarda l'aspetto della commissione per la protezione di cui io non sapevo quasi nulla e solo così siamo riusciti a risolvere e far emergere alcune persone che adesso sono regolarizzate sono fuori dalla tratta quindi volevo ringraziare e soltanto testimoniare che questo lavoro di rete è fondamentale perché nessuno di noi può risolvere problemi così grandi da solo ecco 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 bene io a questo punto ringrazio tutti voi ancora una volta per l'interesse per la partecipazione e ringrazio moltissimo Monica per la presentazione molto interessante e molto completa e sicuramente fondamentale per addentrarsi in questa tematica e vi ricordo che ci vediamo mercato di prossimo il prossimo appuntamento sarà con la collega Valentina Coletta che ci parlerà in questo modulo di tratta e transessualità e si focalizzerà un po' di più sulle sfide che questa categoria di persone ha come vittime di tratta e ci vediamo quindi il 20 aprile è sempre alle 18 il link è sempre lo stesso ma in ogni caso ve lo rimanderò il giorno precedente vi ricordo che è stato pubblicato sul sito di Caritas Roma sul canale YouTube il link dello scorso incontro e la stessa cosa avverrà anche con questo non appena sarà possibile pubblicato sul canale YouTube della Caritas Roma lo pubblicheremo e vi invierò il link grazie a tutti grazie a tutti